Ciao a tutti ragazzi! Oggi andremo a vedere come ottenere più di 1200 punti esperienza nel giro di 15 secondi in Sekiro. Ho già fatto precedentemente una guida simile, ma questa è consigliata per tutti coloro che si trovano già a tre quarti del gioco, mentre l'altra è per chi è ancora un novizio. Bando alle ciance, dobbiamo recarci negli abissi di Ashina, all'idolo della foresta nascosta. Da qui torniamo indietro e usiamo il rampino per raggiungere la sporgenza opposta. Appena atterrati, un nemico ci spawnerà davanti. Fortunatamente avremo tutto il tempo del mondo per eliminarlo con il nostro attacco silenzioso, ottenendo ben 620 punti esperienza. Fatto questo, avrete due scelte. La prima è affrontare anche l'altro nemico. Questi ultimi hanno una stamina veramente bassa. Vi basterà spammare il tasto attacco fino a spezzare la loro guardia. Se comunque non vi sentite del tutto sicuri, una volta ucciso il primo, potrete semplicemente tornare indietro al litolo, riposare e ripetere l'operazione. In entrambi i casi, in meno di 15-20 secondi, otterrete più di 1200 punti esperienza, da spendere in seguito per l'acquisto delle abilità shinobi a voi più congeniali. Spero che il video vi sia piaciuto e soprattutto vi sia utile per ottenere tutte le abilità del gioco. Ricordatevi di lasciare mi piace, di iscrivervi e di attivare la campanella, mi raccomando. Ci vediamo ad un prossimo video!